Se qualcuno avesse dimenticato i colori della Puglia, il grande successo di Checco Zalone e del suo Che Bella Giornata ha nuovamente riportato alla memoria del grande pubblico lo splendido scenario che offre il tacco d'Italia. Dall'idiglio infranto alla ragazza con la pistola, da polvere di stelle al giovane toscanini, ai più recenti la bestia nel cuore in mine vaganti. Dai primi anni 30 ad oggi sono oltre 70 i registri del grande schermo che hanno scelto il suggestivo e vario pinto scenario naturale pugliese per realizzare i loro capolavori. L'arte delle immagini ha conquistato anche le province di Bari, Bat e Foggia, tanto da indurre le istituzioni a promuovere il territorio attraverso i frame che hanno esportato la Puglia al di là del Gargano. Stare insieme è fondamentale, ci siamo stati già l'anno scorso, quindi con le altre due province, e noi, giovani province, abbiamo deciso anche quest'anno di ripetere l'ottima e grande esperienza dell'anno scorso. E i risultati si vedono. Le immagini che per l'appunto fungono da attrattore per i turisti, soprattutto quelli che non hanno mai visitato la nostra terra. Beh sì, tramite le scene di alcuni dei film girati nel nostro territorio vogliamo far innamorare i potenziali turisti delle nostre ricchezze, delle nostre peculiarità e quindi venire a visitarci. Ad illuminare Piazza Duomo uno scorcio di Puglia, immagini in grado di incantare anche i cuori più freddi, immagini che da sole evocano il calore della terra di Puglia, grazie alla sinergia messa in campo dagli enti, una pluralità di territori in competizione positiva grazie all'unione di intenti. Stupire senza effetti speciali, semplicemente svelando quello che già c'è. Le bellezze naturali dal mare alla murgia all'entroterra, non abbiamo soltanto bellezze storiche, culturali, artistiche, religiosi, e non gastronomiche, ma abbiamo della gente molto ospitale, della gente viva, quindi è un'opportunità significativa che dobbiamo saper sfruttare per essere un punto di riferimento, un centro di attrazione per tutto il resto della nazione, della nostra Italia, ma anche di forestieri provenienti dagli altri paesi.